Diamanti e pietre preziose vendute a prezzi notevolmente maggiorati rispetto al loro reale valore. E questa è la truffa milionaria in cui sono incappati centinaia di risparmiatori del territorio pesarese e fanese. Una truffa portata avanti da una società che agiva attraverso un sistema bancario. Si tratta di una frode scoperchiata dalla compagnia della Guardia di Finanza di Fano su lunga indagine delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesero. Un'indagine nata in seguito a diverse querele nei confronti di un istituto di credito cooperativo pesarese. Querele da parte di correntisti della banca in questione che lamentavano di essere stati raggirati avendo acquistato Diamanti e preziosi tramite la stessa banca che prefigurava investimenti fruttuosi con l'auti guadagni in prospettiva. L'indagine ha scoperto che lo stesso istituto bancario fungeva da intermediario di una società di capitali operante nel commercio di pietre preziose con la quale avrebbe stipulato un accordo illecito inducendo in errore centinaia di risparmiatori in cambio di consistenti provvigioni. A completare la frode il fatto che la società venditrice avrebbe falsificato le quotazioni dei diamanti da investimento riuscendo a pubblicare anche ingannevoli annunci sulle pagine economiche di un giornale nazionale. L'indagine ha scoperto un di vittime che avrebbero corrisposto circa 2 milioni e mezzo per l'acquisto dei diamanti generando provvigioni per 300 mila euro incassate dalla banca. Sono state così denunciate 16 persone oltre al rappresentante legale della società venditrice di diamanti. Denunciati che dovranno rispondere di reati di truffa aggravata, corruzione e autoriciclaggio. Anche la banca è stata deferita l'autorità giudiziaria per responsabilità amministrativa nel non aver adottato modelli organizzativi funzionali a prevenire simili reati interni. Intanto però l'istituto di credito che ha incorporato la banca ha già provveduto a risarcire il 90% dei correntisti che avevano acquistato i preziosi.